Nella rega ieri ho visto che il sindaco di Bologna mi ha attaccato, Fratoianni mi ha attaccato, la Boldrini mi ha attaccato, ho detto va bene, ho detto qualcosa che va bene. Mi hanno attaccato perché ho osato dire cuori e porte aperte a quei bimbi e a quelle mamme che vediamo scappare dalle bombe e dai missili che sono profughi veri in fuga da una guerra vera, ma a maggior ragione ancora più attenzione a chi scende da Barchini e Barconi e non scappa da nessuna guerra ma la guerra ce la sta portando in Italia, per rispetto di quei bimbi e quelle donne, perché non è più il tempo di la qualunque. In tempi drammatici occorre essere precisi, puntuali, attenti, solidali, generosi.